Primo novembre, festa di Ogni Santi. Nell'835 la festa di Ogni Santi viene spostata dal 13 maggio al primo novembre da Papa Gregorio IV. Nel 1512 il soffitto della Cappella Sistina dipinto da Michelangelo viene mostrato al pubblico per la prima volta. Siamo nel 1800, John Adams diventa il primo presidente degli Stati Uniti ad abitare alla Casa Bianca. Nel 1848 a Boston nel Massachusetts negli Stati Uniti d'America apre la prima scuola medica per donne. Nel 1884 la conferenza internazionale sui meridiani di Washington adotta il sistema dei fusi orari. 1897 un gruppo di studenti del liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino fonda la Juventus. 1952 gli Stati Uniti fanno denotare la prima bomba all'idrogeno. Nome in codice Mike dove M sta per Megaton. Siamo nell'attollo di Bichini nell'oceano Pacifico. 1962 esce in Italia il primo numero di Diabolic e nel 1993 entra in vigore il trattato di Maastricht che stabilisce formalmente l'Unione Europea. I nati primo novembre nel 1903 Jean Tardier artista poeta e drammaturgo francese. Nel 1905 Aldo Fabrizi attore sceneggiatore e regista italiano. Nel 1921 Mario Rigoni Stern militare e scrittore italiano. Nel 1934 Umberto Agnelli imprenditore dirigente sportivo e politico italiano. Nel 1943 Salvatore Adamo cantautore italiano. 1953 nasce Lello Arena cabarettista e attore italiano e nel 1968 Enric Balbontin comico e cabarettista italiano. Muoiono in questo giorno nel 1881 Luigi Agostino Casati un uomo politico italiano. Nel 1907 Alfred Jarry scrittore e drammaturgo francese. Nel 1956 Pietro Badoglio militare e politico italiano. Nel 1957 Clemente Rebora presbitero e poeta italiano. Nel 1969 Enrico Viarizio attore e cabarettista italiano. Nel 1972 Ezra Paun poeta statunitense. Nel 1977 Franco Albini architetto e designer italiano. Nel 1978 muore Giuseppe Berto scrittore italiano e nel 1982 il regista statunitense King Vidor. Per questo primo novembre è tutto. A presto.